Sia lodato Gesù Cristo Ciao amici e amiche Eccoci qui al Vangelo di Oggi con fra Stefano Il Vangelo del Giorno mercoledì 2 febbraio Festa della presentazione di Gesù al Tempio che è anche la festa per la vita religiosa e festa della candelora Vi invito a prendere con voi una candela per la benedizione delle candele nella festa della candelora. Se volete potete mettere in pausa il video e poi quando avete trovato una candela lo fate ripartire per la benedizione. Adesso cominciamo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, il Signore nostro verrà con potenza e illuminerà gli occhi dei suoi servi. Alleluia. Fratelli e sorelle, sono trascorsi 40 giorni dalla gioiosa celebrazione del Natale del Signore. Oggi ricorre il giorno nel quale Gesù fu presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Con quel rito egli si assoggettava alle prescrizioni della legge, ma in realtà veniva incontro al suo popolo che l'attendeva nella fede. Guidati dallo Spirito Santo, vennero nel Tempio i santi vegliardi Simeone e Anna. Illuminati dallo stesso Spirito, riconobbero il Signore e i pieni di gioia gli resero testimonianza. Anche noi qui, riuniti dallo Spirito Santo, andiamo nella casa di Dio incontro a Cristo, lo troveremo e lo riconosceremo nello spezzare il pane, nell'attesa che egli venga e si manifesti nella sua gloria. Preghiamo. O Dio, fonte e principio di ogni luce, che oggi hai manifestato al giusto Simeone il Cristo luce per rivelarti alle genti, ti supplichiamo di benedire questi cieli e di ascoltare le preghiere del tuo popolo, che viene incontro a te con questi segni luminosi e con inni di lode. Guidalo sulla via del bene, perché giunga alla luce che non ha fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca Gloria a te o Signore Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo. Anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». I padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele e della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore Lode a te o Cristo Oggi non vi lascio un commento, ma vi lascio un segno, il segno di questa candela che abbiamo benedetto, ma anche per chi non avesse una candela, come io ora non ho una candela con me, il segno tuttavia resta, il segno di una luce, il segno di una fiamma che rappresenta Gesù e allo stesso tempo rappresenta anche noi. Questa fiamma è l'unione di Gesù con la nostra anima, il segno di contraddizione, perché svela i pensieri di molti cuori, e i nostri cuori sono abitati da molte contraddizioni. Gesù è questa luce che ci permette di vedere dentro di noi, di guardare con onestà, senza esaltarci per la bellezza che abita nella nostra anima e senza disperare per la miseria che pure è presente in noi. Accogliamo questa luce e portiamola con noi, anche se non riusciremo a sciogliere tutte le nostre contraddizioni, almeno avremo il conforto di Gesù che ci aiuta a rialzarci dalle nostre cadute. La luce del Signore risplenda sempre nei nostri cuori, nei nostri occhi, nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. LA BENEDIZIONE PER TE E PER LE PERSONE CHE PORTI NEL CUORE Il Signore sia con voi Vi benedica Dio onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen. Anche questo mercoledì, ricordiamo, durante l'adorazione eucaristica, questa grande famiglia che ascolta il Vangelo, preghiamo sempre gli uni per gli altri. Il Signore ti custodisca nella pace e ciao ciao Abbi cura di te